Dal vivo a Bella Ma, Adriana Volpe balla con la concorrente della Generazione Z, Rosa Sorrentino. Musica! We'll drive you, drive you, drive you, mad, Roxanne. You don't have to put on that red light, walk the streets for money, you don't care if it's wrong or if it is right, Roxanne, you don't have to sell your body to the night. Bravissime! Uh, meravigliosa! Fate abbracciare! Sei strenghida, Rosa! Complimenti, accomodati, Rosa. Adriana, ma che brava che sei! Bravissima! Bravissima nelle linee, linee pulite. Grazie! Scusami, Adriana, sei veramente bravissima! Veramente! Non pensavo! Cioè, hai una sensualità incredibile! Grazie! Adriana Volpe! Bravo! Un bel braccio! Un resto di cuore! Un rosa Sorrentino! Bravo! Sarà il nostro Gencarelli, il nostro coreografo a decidere a chi andrà nei 40 punti di questa sfida. La prossima sfida riguarda... Sempre il tango, lo ballano Antonella Elia e Giampiero Coletti! Generazione Boomer! Vieni Giampiero! Che tipo di tango è questa versione? Allora è un tango in coppia per cui è più passionale ed è diciamo la parola d'ordine qua è una storia di gelosia, passione Perché ridono? Perché ridete? Perché ridete? Vabbè niente quindi Il tema è la gelosia per cui i movimenti sono più scattosi e un po' più bruschi Ah più bruschi, Giampier dattene la regolata Allora il concorrente della generazione boomer, mio malgrado Giampiero Coletti balla con Antonella Elia Nel cuore sento come un presentimento Principi, ti prego perdonami questo momento non lo devi scordare Amore vuol dire gelosia Allora son pazzo di te È meglio così che soffrire di più Io lo so, mi pentirai, mi cercherai Giampiero prego Antonella, sei una matta, ma sei bravissima pure tu Ti ho visto molto trasportata Ah Pietro, Pietro preoccupati No Pietro Preoccupati Pietro, preoccupati No è il nostro anniversario domani Io Pensa te Quattro anni Chissà se ci arriva domani Ci arriva domani Ci arriva Ci arriva Allora Che neanche sappiamo Aspettate un attimo Prima di decidere a chi dare i 40 punti di questa sfida Perché ho in mente un ballo collettivo Sei pronta? Sei pronta pronta? Aspetta un attimo Allora Oggi Cari telespettatori È il compleanno di uno dei più grandi coreografi italiani Giampiero Gencaralli Tanti auguri a te Tanti auguri a te Tanti auguri a Giampiero Tanti auguri a te Tanti auguri a Giampiero 25 anni 25 no? 43 43 Solo 43 Complimenti